Castel di Mezzo torna a guadagnare l'accesso al mare attraverso la strada Rive del Faro, sentiero pedonale di un chilometro fra i più suggestivi dell'intero parco San Bartolo. In dieci giorni di lavoro serrato il centro operativo del comune ha infatti ripristinato il tracciato reso inagibile dalle frane prodotte dall'alluvione di maggio 2023. Un sentiero ripulito e messo in sicurezza reso ancora più facilmente raggiungibile dal servizio di navetta gratuita che collega Pesaro a Gabicce passando per il San Bartolo. Un ripristino che Biancani aveva annunciato a metà luglio è merito al quale si appella ora alla regione per invitarla a considerare un intervento strutturale sulla falesia che permetta la riapertura definitiva della strada. L'intervento attuale delle comune non mette infatti il sentiero al riparo da presumibili altri smontamenti nel periodo invernale. Proprio la regione poche settimane fa aveva stanziato fondi dedicati ai percorsi pedonali e ciclopedonali di collegamento dalla panoramica alla statale. L'invito è a valutare di includere un percorso strategico per turismo e valorizzazione del parco.